Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, ben ritrovati con Alex Carson. Allora, una precisazione, io questa mattina avevo buttato fuori un video sul DLC di PES 2021 e quando voi scaricate il DLC troverete, andiamo direttamente al campionato italiano senza tanti giri di parole, io ho la patch di PES e non di PES Team, comunque sono state aggiornate per dire le divise, andiamo a vedere quella dell'Atalanta, ah non ancora, non ci sono ancora gli sponsor, ok arriveranno più avanti, però in compenso, serie A e serie B adesso è a posto, qui abbiamo le divise della Juventus aggiornate, andiamo a vederle, c'è anche la faccia di Andrea Pirlo, vedete, 1, 2 e 3, siamo alle divise di quest'anno, la divisa arancione sembra color Fanta, ma lasciamo perdere. Allora, ho fatto un errore madornale questa mattina, veramente un errore da principiante, mi è stato fatto notare, accolgo la critica, anzi grazie di avermelo fatto notare, in tanti diranno, ma come mai trovo ancora Pjanic alla Juventus, Douglas Costa al Bayern e tutto il resto, c'è un'operazione importante da fare e ve la mostro subito. Dov'è, 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 dov'è? Ecco, dovete uscire dal menu di modifica, che tanto è già salvato, adesso andiamo di nuovo dentro il menu di modifica, applica l'ultimo aggiornamento live, è fondamentale ragazzi questo discorso qui, perché altrimenti non si applicheranno i trasferimenti, perché a quanto pare la Konami ha fatto anche i trasferimenti, in teoria, eccolo qua, applichiamolo, aggiornamento live in corso, questa mattina oltretutto i server della Konami non andavano, forse presi da salto, non lo so, questa mattina i server Konami vi assicuro che non andavano, adesso sono le ore 15, quindi stanno implementando i dati scaricati, vale a dire, cioè, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei trasferimenti, i trasferimenti stanno andando, adesso li stanno implementando. Andrà a compromettere, la domanda che si fanno tutti, tanti seguono PESFan.it o alcuni come me seguono Saipess, andrà a compromettere la Paz? Probabilmente sì, ma sicuramente i ragazzi di PESFan, Saipess l'ha annunciata per questa sera, probabilmente, la nuova, il DLC, il loro DLC d'uscita, PESFan sicuramente correrà i ripari, perché comunque qualcosa succede, è inevitabile, però andiamo a vedere, io sto verificando con voi adesso questo discorso qua, vogliamo sovrascrivere? Assolutamente sì, non so se vedete la schermata, comunque, sovrascriviamo i dati di modifica e se Dio me la manda buona, questo aggiornamento live applicato con successo. Ok, dati di sistema, perfetto, e adesso andiamo a vederci le squadre e se sono quelle aggiornate dovete farmi un monumento, no scherzo, assolutamente niente, anzi questa mattina, ripeto, io l'ho rimosso il video proprio perché avevo capito del grande errore che avevo fatto, e infatti, eccoli qua, aggiornamento all'ultimo trasferimento, Chiesa alla Juventus, Arthur alla Juventus, Kolusevski, c'è anche l'ultima formazione, la Lazio, l'Inter, quanto pare sono le formazioni di ieri sera della Champions, andiamo a vedere, io ho la Bundesliga, praticamente, ed ecco infatti il problema, ah no, ce l'ho, ce l'ho la Bundesliga, ce l'ho, però dovrò rimettere a posto tutto, nel senso che, tornando indietro, qual è il discorso adesso? Il discorso adesso è che se avete la Bundesliga dovete praticamente rimettere a posto il numero dei partecipanti, tipo il Bayer Lever, intanto il numero dei partecipanti della vostra Bundesliga, la Bundesliga, lo sappiamo tutti, che ha ancora 16 squadre, e andiamo a metterla a posto immediatamente, quindi ragazzi, ho fatto un errore da principianti, veramente da novellino, come si suol dire, e di fatto dobbiamo portarci il Bayer e lo Schalke 04, come vedete ci sono Perugia, spero che venga fuori Livorno, spero che venga fuori una patch che mette a posto anche le altre DB, sarebbe una figata micidiale, secondo me, uh addirittura abbiamo il Deportivo La Corugna qui, ma la domanda che vi faccio è che non so, è retrocesso il Deportivo? Non credo perché, ah ecco qual è il discorso, eccolo qui il discorso, manca la Liga 2 da mettere a posto, ma lo farà 6 pass più avanti, quindi sicuramente ci sarà questo discorso qui, andiamo a vederle, eh perché vedete, Numansia, Deportivo La Corugna, Racing Club Santander, comunque ragazzi, la Juve Stabia, quindi abbiamo sicuramente, la sto scoprendo con voi, eh, quindi non c'è nessun trucchetto, la sto scoprendo con voi, l'importante è che fate quel famoso applica aggiornamento live, senza quello voi non avrete i trasferimenti e quindi, e l'importante poi è naturalmente il salvataggio, perché senza il salvataggio non si fa nulla, eh, quindi bene così, eh, sono contento, perché alla fine, eh, avevo detto che delusione questo DLC, ma in realtà, eh, l'errore l'ho fatto io da, passatemi il termine da coglione, eh, quindi ragazzi, eccolo il DLC Konami, ricordatevi, aggiornamento live è fondamentale, è fondamentale perché senza l'aggiornamento live non riusciamo a fare proprio niente, ok, dopo questo che succede? E naturalmente volete conservare la vostra Bundesliga, aggiornamento live? No, ecco qui che la Bundesliga ha le sue 16 squadre, uh, dobbiamo ancora trasferire qualcuna, abbiamo dimenticato qualcuna qui della... Sicuramente l'abbiamo dimenticato, è il Colonia e l'Eintracht, ma scusate la Bundesliga a 18 squadre, eh, grave errore, grave errore il mio, eh, vabbè, sono un po' sbarellato, ma va bene così, eh, quindi andiamo a modificarla, ultima modifica, andiamo a modificare la struttura della competizione, ah no, aspettate, il numero di partecipanti prima, eh, è fondamentale, oggi proprio, non carburo ragazzi, oggi proprio non riesco a carburare, ecco, 18 squadre, 18 squadre, ecco qua, ok, dopo vi trasferite come meglio credete, eh, dov'è, 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 non mi ero accorto dell'Eintracht e compagnia, o forse sono già qui, eccoli qua, perfetto, abbiamo la Bundesliga, ragazzi, questo è tutto, eh, andiamo con la schermata sulla Juventus, così, almeno capirete che i trasferimenti dove sono, dov'è, 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 eccola qui, teniamo questa, spero venga fuori questa come immagine d'anteprima, ragazzi, ci rivediamo per la Master League a questo punto, eh, io la Master League, eh, partirò con la Master League quando, eh, Sai Pass butterà fuori il proprio aggiornamento, Sai Pass fa solo 2-3 DLC l'anno, ma sono molto validi, esattamente come quelli di, di ragazzi di PassPan.it, ragazzi, io vi saluto, ci rivediamo per la Master League, per la Classic Champions League, per il campionato di Serie A 89-90, e alla prossima, ciao a tutti!